per i possessori delle montature rainbow astro c'è una novità c'è un nuovo accessorio che produce la ditta coma di adriano nolli si tratta di un puntatore laser che si applica dove normalmente uno mette il pole master quindi sulla basetta per il pole master si avvita chiaramente col pulsante si accende ecco vedete il raggio laser i possessori delle montature rainbow astro sanno che queste montature non hanno il canocchiale polare il canocchiale polare ci permette con un piccolo trucco di inserire posteriormente un raggio laser di allinearci seppur in maniera grossolana il più possibile alla polare perché è importante questo perché alcune volte affidandoci soltanto alla bussola però poi quando arriva all'oscurità vediamo che è praticamente possibile che lo spostamento che dobbiamo fare con le manopole di ascensione retta è talmente grande che le manopole stesse non bastano più per fare quello quello spostamento quindi noi dobbiamo essere pronti a prima di fare il allineamento fine con i software di allineamento volare di avere una montatura più possibile vicina alla stella polare in maniera tale che poi dovremmo fare solo dei piccoli spostamenti in ascensione retta soprattutto in ascensione retta per allinearci di fino alla polare